Bene, anche oggi dei laboratori di Sound Machine con Valentino per presentarvi questa bellissima Harley-Davidson a quale abbiamo effettuato un piccolo intervento di upgrade relativo all'impianto audio. Come potete vedere gli alloggiamenti degli autooperanti originali sono rimasti assolutamente invariati abbiamo aggiunto una coppia di tweeter per completare il sistema e renderlo più efficiente e dettagliato e una coppia di midwoofer che hanno preso il posto nel paragambe originale con un intervento anche di facile realizzazione. Ora accendiamo l'impianto di questa Audi che come potete vedere è già adottata di tour pack quindi con i due altoparlanti posteriori già predisposti e abbiamo utilizzato un'amp DSP adesso potete vedere questa presa USB che è collegata al computer e attraverso il quale possiamo andare a gestire alcuni aspetti del sound check del sistema installato dal software di interfaccia. Possiamo vedere qua quello che è diciamo l'interfaccia grafica che ci permette di interagire col sistema selezionando ogni singolo altoparlante che compone il sistema a trevia anteriore e gestirne diverse attività con i prosodori elettronici, ritardi temporali, regolazione della fase, equalizzazione eccetera eccetera. Ecco questo è giusto per farvi vedere che anche su una motocicletta è possibile gestire diciamo così un modo professionale di approcciare al sistema audio. è quello che passa al microfono del tremolino. Ho personalmente effettuato un road test vi garantisco che anche con il casco in testa insomma il plus ottenuto da questo upgrade è assolutamente appropriato ed eccezionale nel suo genere bene alla prossima Valentino ciao a tutti